Il deputato del Partito Democratico Stefano Ceccanti ha anticipato sul suo Twitter riferendo che la decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri nel corso della riunione svolta si stamattina, la chiamata al voto per le elezioni comunali in Calabria prevista per il prossimo 12 giugno 2022 con l'eventuale turno di ballottaggio fissato per il 26 dello stesso mese. Ceccanti ha anche comunicato che nella stessa data del 12 giugno si voterà per il referendum sulla giustizia. Nella regione Calabria i comuni interessati al voto amministrativo sono in totale 75, il più importante è Catanzaro, città-capoluogo con i suoi oltre 89.000 abitanti, unico della provincia in cui i cittadini saranno chiamati alle urne. Seguono Acri, centro del Cosentino, Palmi nel Regino e Paola Tirreno-Cosentino. Tra i centri più popolosi in cui si voterà ci sono inoltre Bagnala Calabra che ha oltre 10.000 abitanti e Pizzo che ne ha poco meno di 9.000. Grazie. Grazie.